insomma io sono un ispettore del comune e debbo assolutamente parlare con il signor Gaetano Esposito ma ma voi veramente siete ispettore del comune è certo siete brutto ma si può sapere voi da Gaetano cosa volete questo già ve l'ho detto voi dovete pagare le tasse e non le tasse ma quello Gaetano non paga nessuno e invece questa volta paga perché se no me ne vado e torno con i carabinieri buongiorno mi hanno riferito che mi cercavate il signor Gaetano Esposito per servirvi di che si tratta qui tra tasse non pagate e interessi siamo intorno ai diecimila euro diecimila euro e come si fa dove li troviamo tutti questi soldi no signor non ci buttate in mezza via facetelo proprio a gusto sentite voi mi state simpatico se parlate con un avvocato ci possono essere degli articoli che vi possono agevolare si tratta di casi disperati è più disperati di noi dove li trovate per capirci vi serve una donna incinta ce l'avete sì o no sì sì ci sta ce l'abbiamo e ora come facciamo che stai aiutato vicino all'ispettore che noi teniamo la femmina incinta o il disattore non nemmeno le mani a ritrovare tutte le due ma siamo in un teatro e tutto è possibile prendiamo a Francesco che fa il disattore a Pasquale che fa la femmina incinta così noi... eh Pasquale tu hai capito? eh guardami così è sì e così è no hai capito? eh girare la capuzza è gi eh insomma Franci tu hai fatto un po' come ti ha già spiegato ora devi fare un po' che... a parte un'uaggione ritardata oh capito è stata senza pensiera eh non va a posto so eh 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 Grazie a tutti